In attesa del ritorno contro il Fossano per il titolo di miglior squadra di eccellenza, il Verbagna festeggia insieme ai suoi sponsor la promozione in Serie D. Dobbiamo ringraziare tutti i nostri sponsor che ci sono stati vicini, sicuramente la società che ha fatto un ottimo lavoro, i giocatori in primo luogo e il nostro obiettivo penso di averlo raggiunto riportando la gente allo stadio. L'auspicio è anche perché il prossimo anno ci siano altre tante soddisfazioni per la città e per la Verbagna sportiva, di cui noi siamo sponsor, anche di altre compagini, quindi come sapete Rosaziora e tutte le altre attività sportive di Verbagna. I complimenti ovviamente vanno fatti prima di tutto alla dirigenza, perché dobbiamo ricordare che senza una dirigenza solida alle spalle la squadra sicuramente non si sarebbe potuta esprimere come si è espressa quest'anno sul campo tenendo questa grande vittoria del campionato.